Lo sai come nacque il soprannome Il Piede Sinistro di Dio dedicato a Mario Corso? Il Piede Sinistro di Dio è il soprannome altisonante che venne dedicato a Mario Corso, una delle colonne della grande Inter di Elenio Herrera. Devi sapere che nonostante lo sconfinato talento, Corso non ebbe un buon rapporto con la nazionale italiana. In una delle sole 23 presenze in maglia azzurra però decise una partita fondamentale, la gara di ritorno dei playoff per il mondiale del 1962, dal quale poi peraltro fu clamorosamente non convocato. Italia-Israele 4-2, doppietta di Mario Corso che fece letteralmente ammattire la difesa avversaria. Nel post partita di quel ragazzino appena ventenne, il commissario tecnico di Israele dichiarò proprio siamo stati bravi ma ci ha battuto il piede sinistro di Dio. Per tante altre storie e curiosità sull'Inter, iscriviti subito al canale!